Lo scioglimento dei ghiacci contribuisce ad allungare le giornate. I due eventi, apparentemente scollegati tra loro, sono in realtà correlati dal modo di rotazione terrestre. Una volta sciolti i ghiacci a causa del riscaldamento globale, infatti, l'acqua in eccesso va a concentrarsi intorno all'equatore, causando un aumento di volume che porta il pianeta a ruotare meno velocemente. La conseguenza è un rallentamento stimato in 1,33 mille secondi ogni secolo.